Benvenuti all'edizione provinciale dei telegiornali di TVI. Si sono improvvisati i commercianti per un giorno, i bambini di Parco Città, che hanno dato vita affiancati da genitori e nonni al mercatino dei piccoli. L'insolido punto commerciale ha consentito la vendita di oggetti esclusivamente dedicati all'infanzia. Mascotte dell'iniziativa, un simpatico lupo che si aggirava tra le bancarelle. I bambini hanno potuto passare in rassegna giocattoli, peluche, figurine in una giornata di intensa attività fatta di scambio, di divertimento.